Aspettate, ops, 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 cacchio, ora è tutto giusto, perfetto Benvenuti, benvenuti questa sera A chi? A Steam? No, a Steam A Steam E io gioco su Origin però A chi? Io no, io su Steam Marco Io gioco su Origin perché ormai avevo iniziato lì e le ore erano contate lì Non è meglio Amici, questa sera giochiamo ad Apex, speriamo di fare un po' Io oggi ho giocato pomeriggio un sacco, ho giocato a un Vector, Finch, da solo, tutto Oggi abbiamo fatto il fuoco ma abbiamo anche vinto, tra l'altro Ho guardato Giorgio No, io non ho guardato Giorgio Io ho anche vinto oggi però sicuramente non andrà Ho incazzato Marco e Eliezer hanno incazzato Anche io sono incazzato No perché hanno riviato Harry Potter Ah è vero, anche io sono incazzato allora Si sapeva che sarebbe successo ma non mi spieghiamo già subito all'inizio dell'anno Invece Marco perché sei incazzato? Perché ho fatto, grazie The Snow, grazie mille Perché ho fatto l'abbonamento a Crunchyroll quello free di 30 giorni E volevo annullare l'iscrizione per la fatturazione successiva Non me la fa fare e mi ha preso 5 euro Ma scusami Eh, si è abbonato la vita Ma io non, come si toglie Crunchyroll ragazzi Voglio fare un mese gratuito Ma ha preso 5 euro Adesso non so come Ancora adesso mi fa È impossibile annullare la tua situazione Eh ma Marco Non devo fare io A volte Rubano i soldi questi qua Non è Certo 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 Amici domani mattina dobbiamo giocare a Rust Io prima ho giocato anche a quello E mi sono rovesciato tutta l'acqua addosso Acquisto un pack Acquisto 10 pack Io volevo prendere l'acqua oggi su Rust E l'ho presa dopo Con molta fatica Sono riuscito a prendermi un sacco di acqua Per poi Nel momento del bisogno di bere Rovesciarmela tutta addosso E tra l'altro Poi ho scoperto Perché ho sbagliato tasto Ho scoperto Pokémon aveva messo l'acqua sul soffitto Quindi non serviva niente Tutta quella fatica L'ho messo sul soffitto Ah già Avevi messo l'acqua sul soffitto Ma io non lo sapevo Mi sono rivattato tutto addosso E ho fatto un casino Ma tanto adesso giocherò con Al Ragazzi farò il panico Nel prossimo vedrete No non vedrete un cacchio in realtà Ma che bello questo pack Chi è? Però 5000 non ce li ho purtroppo Fatemi andare in questo punto Del settore E fatemi mettere Enix Sono veramente stra-curioso Di quel gioco lì Che hanno annunciato Uscirà tra almeno 7 anni Ma sono curioso Eh già Il sito Devo cliccare qui Poi fare Moro e poi Liezar Pippo e poi Eh sì Di un anno tra l'altro Che hanno detto Uscirà nel 2022 Quindi può essere di un anno Addirittura tra due anni Perché può essere anche fine 2022 Amici Purtroppo Con i video giochi Cosa dobbiamo Ma io che missione Ma l'aspettavo Però non mi aspettavo Che lo annunciassero proprio Il 13 gennaio In occasione dell'evento collezione Abbiamo aggiunto Un tocco varietale Normale di partite Due e tre Io Sì Ah piovono più Airdrop No ci sono Praticamente nella mappa Questi pallini All'inizio sono blu Poi diventano viola Poi oro Poi rossi Con dentro Di drop leggendari Ovviamente Facendo kill Cioè come vedi Lì a destra I zuffi leggendari C'hai tutto l'evento Con tutti gli punti Che puoi fare Marco C'è scritto Che i normali Rifornimenti aerei Saranno sostituiti Da capsule Assistenza multiple E a livello del bottino Salirà ogni round Di capsule Esatto No ci sono più Cioè sono gli airdrop Comunque Esatto Sì Solo che all'inizio Sono blu Poi dopo si restringe La safe E diventano viola Poi si restringe ancora Diventano oro Poi si restringe ancora Diventano rossi E sono sempre Sparsi in giro Per la mappa Lì poi Appunto puoi sbloccare Se fai le missioni Di quelle cose lì Puoi sbloccare La roba di questo Piccolo pass Che hanno messo Io ho già sblocato Delle cose Grazie Grazie Artorias Io invece mi prendo Lifeline Che oggi ho visto Se prendo Lifeline Le vittorie Salgono Improvvisamente Proprio la partita Cambia completamente Se prendo tutti gli altri A tre No chi sono io Prendo Blowdown Io prendo Lifeline Oggi Prendevo Octane Ma potevo fare anche Mille danni Non facevo la kill Facevo solo i danni E il team moriva Prendevo Lifeline Magari facevo meno danni Ma facevo più kill E arrivavamo alla fine O vincevamo Quindi Prendo Lifeline E sto buono così Una disgrazia Marco Mi sembra Ma porta sfiga Octane soprattutto Quanto capito Grazie Artag Grazie Artag Tra l'altro oggi Dei nomi Non è C'ho un po' di Mi scorre Vedete Ci sono i cosi blu Proviamo ad andare Tipo qua Proviamo ad andare qua Ma c'è il coso in mezzo Non ci arriviamo Facciamo il giro intorno C'erano dei nomi No non posso dire il nome Non lo ripeto Però abbiamo trovato Veramente dei nomi Tanto puoi rientrare In caso Eh ma dove vado E poi Sento l'audio che continua In realtà Però è tutto fermo Poi ci organizziamo Ma non è che Origin Le robe di Origin Ti fanno crashare Ma lui è il gamer principale No questo qui ce l'ho su Steam Eh ma comunque Non ti apre Origin No Ah ti non ci arrivo là comunque Io sì Cioè non proprio sopra Ma ci arrivo Eh ma lui è il gamer Quindi è normale Che di crashare le robe Eh mi sembra ovvio Sono incastrato No ma ce l'ho su Steam Io il gioco Non è la scheda video comunque Che è 3070 3070 Ma i miei coglioni Non funziona Secondo me Jezer qua trovi direttamente Delle cose blu Eh Forti Forse arrivo Faccio alt-f4 Ho preso roba io adesso Alt-tabo e rit-tabo Tipo qua c'è un radius Lo prendo io Mi spiace Vai ci rientra Fai prima Tanto dentro della partita Non sei anche tanto distante Prendi questo Arrivo arrivo Riesco forse Ora che arriva gente Ti apro pure questo qua Vediamo se trovi magari Una corazza Un bug della pace Un bug della pace Su random a tutti Insomma non è un bug Non è un bug Ma ora è caduto lì dietro In caso lo andiamo a prendere col palloncino Lo riapro Buo Ce n'è un altro in realtà lì sotto Vedi un po' cosa trovi Merda La corazza sarebbe già No merda Non la prendere Jezer No c'è proprio la merda Andiamo lì Jezer No l'altro andiamoci troppo da muro Perché se rientra Eh c'è il palloncino comunque In caso lo prendiamo Andiamo da lui Orca bestie Vediamo un po' Continui Fammi rientrare nella partita Dai Forse un po' troppo Vabbè per ora le prendo Poi in caso le cambi Domani se va tutto bene Iniziamo della Sguardian Dai Dimmi quando rientri Moro che vedo se Ti posso venire incontro Anche se non è ottimizzato Della Sguardian Arrivo Lo gioco lo stesso Dove sono? Vado qui Domani si è Io Dovedì domani no? Adesso vede tu Sì Ragazzi io ora farò una cosa stupida Forse Vabbè prendo queste Perché se trovo l'R301 La cambio subito Che la voglio Non è questo C'è il devotion Però Vector non c'è Io sono Sono un kit medico Cioè hai trovato uno zainetto piccolo Almeno Lieve Se poi non Credo che si Se poi non ci piace Ti ricordi dove l'hai visto? Ah no Io l'ho preso per me Qua io non ne ho trovati altre C'è un'armatura blu Ma io mi è lungo arrivare fino là Adesso mi piacerebbe venirlo a prendere Ma basta Che rottura Ci metti tanto tanto Moro Perché non ho No prendo il palloncino adesso Ah ma tranquilla Ma arriva Non è problema Ah recupero il past Posso andare anche là dentro Dopo volendo Ciao quando arriverà Morelli Allora Volendo Vai dagli airdrop blu Che c'è già le armi pronte Comunque Con tutti gli attachment e tutto E c'ho già il triple take E la carabina Quindi sono a posto Eh ma lì hai l'arma proprio completa E proprio Sono i drop Ti droppano cose complete Sì sì Eh lo so Un tipo lo so Ovvio E che non ce l'ho fatta Che so stupido È già stato lootato questo No c'è un altro Però là Io l'ho aperti tutti L'abbiamo aperti tutti noi C'è i rimasugli Ma c'è roba intera Comunque Casco livello 2 Casco livello 2 Io ce l'ho Oh questo buono Tutto questo Prendo gli scudi Vedo dei pallini viola Che stanno arrivando Sì sono gli altri airdrop Sì Hanno sparato alla mia Ah c'è un airdrop laggiù volendo Dobbiamo andare verso il cosi viola dai Verso quelli di là Eh pingatemi con Ah lì dove è caduto Eh proviamo Sì Secondo me in città Non finisce bellissimo No il primo non dovrebbe essere in città Gli altri sono tutti in città No mi sa anche quello in città Eh io l'ho visto cadere lì in mezzo E andiamo a morire ammazzati Marco Ma sì tanto è divertente E poi pure Agliezer C'è gente All'airdrop Immaginavo Aspetta Amoro Mi sento uno anche molto vicino E' lì azzaro No no Non è in casa dentro E' in casa? Sì Proviamo Stiamo insieme Non è sotto casa? Non è qua giù infatti Oh aspetta Ok sono qua dentro Occhio Carrico E c'è un portale Arriva E' Raid Raid Mi Mi pippo un attimo Non mi sa Sono scema Io non riesco a fare sticcati Quindi premuto bar Non devi continuare a premerla Non mi dico Sì Ma questi chissà dove sono andati Eh non possono essere troppo distanti Sono lì Arrivano Di dove? Laggiù Ho pingato Cioè in realtà non lo so se arrivano L'ho visti mi sembrava però Non so allontanermi allora Apro qua Ho chiamato la viola Ho l'airdrop Non ce l'ho zainetto C'è la carabina L'R301 La voglio io Ma quella viola Sì L'ho presa io con la viola Però l'ho lasciata una lì Ah beh c'è una dove? C'è una qui Secondo me è qua sopra Qua ce li va otto Sopra No sei tu Marco Che paura È scappato Uno è scappato Non so se era lo stesso No è entrato È entrato qua dentro È entrato Dov'è l'R301 La presa di Hezar? No C'è la guccia E dov'è? Allora non c'è più Sarà qua negli hard rock Era per terra Nel primo aio Non quello Sarà qua dietro No dove vai? No 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 E dov'è? Qua se è l'interesse Ah Sì Ah ok Eh mi sa come lo cambi È completo? No Ah mi sparo E allora aspetta Prendo Facciamo anche per Adesso tengo il spiso No vabbè è scelto io Non c'ho proprio Per il momento non C'era comunque uno dietro? Era sotto Era gli Hezar Era sopra Ma sopra qui dove ritene Oh mi ha sparato Era lì No era sopra sopra Io ero Dove sono io? Ah Era lì Ah lì Sono andato Ah no Sono sopra il tetto Loro Di fronte Ah Ma guarda che mira Gli stanno sparando Anche altri Ma Da destra Gli stanno sparando Altri Sì 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 Gli sono laggiù Altri Non so se me la sento No non cacateli Quelli là Siamo dentro Siamo dentro per ora Solo che Facciamo così Ragazzi aspettate un attimo Anche cambio l'arma Non ingaggiate Non fate nulla No io sto guardando giusto Però guardate In realtà non dovrei farla Sto cagata Ma Allora ma c'è uno che Nel gana a fare schifo Allora la giusta Non ho Perché non mi fa pingare Munizioni leggere ne avete Per caso In più anche Non l'ho Munizioni leggere Ce n'è un pochino Io non c'ho uno zaino Niente Quindi in realtà Non ne sono tante Perché di questi Te li ciucci tutte Proprio Le munizioni Ciao Piero Veramente Frank Rappa Infatti non ci riconosciamo Più neanche noi Vinciamo troppo Vinciamo Siamo dei pro Non abbiamo fatto niente Cosa Oggi Ci stava Prendendo per l'anno Oggi appunto ho vinto Ma non è che capita sempre Poi facciamo finta di sì Perché Ci sta Io andrei comunque qua intorno Perché ho bisogno di munizioni Loro erano là Non ancora No Airdrop Non lo sto tirando Perché Ho paura in realtà Uuu Dai Tornati indietro Tornati indietro? Ah ok Qua Mi scudo eh Vaglia Marco sei troppo avanti Mi sei andato in faccia così Che ero buttata giù Arriva da qui sopra Ci erano munizioni È andato sopra di me Qui 75 Arrivo Che cazzo è sta roba Che scossa Mi scudo Mi stava ricaricando il scudo quella roba È qua sopra Aia Ma sparato Morto Morto diretto Ce n'è uno Mi sparano Mi sparano Mi sparano Non posso pingare Non posso pingare Non so perché Posso pingare solo se c'è il Se lo vedo Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi Prendi la sua di carabina Scusate non l'ho vista Avete ragione Perché stanno Si stanno sparando Si vedi sono Nel palazzo lì Dove C'è Cosa c'è Ah si È un kit fenice qua Se vi serve Eh io non lo prendo È la carabina 301 Gli zaini li avete presi Cavano l'oro Qui c'è uno scudo viola Io c'ho l'ocello rosso Anzi Siamo tutti a posto Su quello È caduto Roba oro qua dietro ragazzi Roba oro Ok Zaino oro Faccio un R99 oro Un volt Eh quasi quasi Io vorrei l'armatura Però Devotion oro Armatura oro L'ho presa io Sarà qui Speriamo Un altro devotion oro Armatura oro buona Ma anche le armi dorate Ma Si si Tutto No è l'evento Ah è proprio l'evento Si 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 È un R99 d'oro Ragazzi tiro un R99 Anch'io Tanto non se le fila nessuno Armatura d'oro ce l'ho io 2 R99 C'era Non si può Far prendi colpi Meglio la rossa Avete ragione Sono stupido Sì no Avete ragione Si 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 Sono stupido io So perché Quando vedo oro Così Una cosa così rara In questo gioco Ma io un elmo viola L'avevo visto Mi sa l'avete preso voi Eh Ma io l'armatura In qualche morto Era In qualche cadavere È un mercato qua Se vuoi potenzialmente Ma lo zaino viola Bastardo non lo dite Eh io ho preso quello d'oro Sono cagato Pensavo che c'era il fuoco Pensavo Stanno sparando ancora Era lì Là dentro Ma vogliamo pusharli? Boh Si stanno Possiamo pusharli Dai Non ce l'aspetti Se ne frega Che loro magari cose ad oro Non ce ne hanno No Non ce l'hanno sicuro Perché gli altri Qualcuno Qualcuno Non ce l'aveva La roba No Perché sono sparate qua Sono sopra Sono comunque No uno era sotto Quello che ho visto adesso Moro Siamo anche sopra nel tetto Vediamo Dentro i passi Tiene uno qui davanti a me Arrivo Moro Ai 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 Da sopra Da sopra È proprio sopra Ma che cazzo Ce l'ha il Mastiff Questo qui Ma ma che sfiga Aia Non l'avevo visto Se l'avevo che c'ava al Mastiff Non la pushavo dentro Alla cosa viola Curati Feniciati Merda Ok feniciati Non ce l'ho il fenice Voglio io Voglio io Arriva eh Sta arrivando Sono in due Sono in due Sono in due Sono in due Che non l'hai voluto prendere Il fenice Però Eh quanti erano Posso rialzarmi In realtà Ma tanto mi sgama Mi ritiro su Peccato 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 Non ci siamo andati male Però dai Ma non capisco perché Non avevi voluto il fenice Non ce la facevo in tempo Comunque No ma comunque Eh ma perché avevo Uno spazio solo libero Avevo un botto di scudi Un botto di 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 medikit Il fenice ci avrebbe messo Solo più tempo Sì tanto con il fenice non ce la faccio più usare Ho fatto al pello il pello A usare lo scudo Quello livello 2 Però non è andata male Ce l'avevo il kit fenice Neanche l'ho visto Dal drop l'ho preso Può essere Sì forse l'avevo preso Dopo vabbè Grazie non so mica Ma cosa mi invita Sergio Che sono in live Cosa mi invita Grazie non so mica Non bagniamo dalla chat Come si chiama Frizzimplos Dai amici Non siamo stati così terribili Sto giro Allora Io mi prendo Lifeline Vedi Preso Lifeline Siamo andati meglio Delle altre live Che avevo Octane Prendo Pippolino Sembra la stessa roba Ma io svapo Lo stesso liquido Da anni Se mi vedete Svapare questo È sempre Il peric Della tabaccheria Io invece moro È vero Questa è una notizia fantastica Che non ho detto Inizierò No Però inizierò Piano piano A fare la collezione Delle figurine panini Veramente Tanto c'ho anche Con chi Scambiarmi le figurine Con chi Fare le robe La sorella No È con chi Con un nonno Beh Questo È vero Di chi Di Franci Eh oh Ah vabbè Ma guarda che a me piacerebbe rifare Ma è bellissimo Ma io non Sono hypato Moro Cioè Sono tornato a scuola Dove stavo andando ragazzi Già colleziono l'ego Mi basta e avanza Possono troppo Già quello Io ho finito Quelle del 2007 E del 2006 Però erano quelle mini Ho finito sia il 2006 Che il 2007 Però Eh ma il fatto moro È che lì Tutta la classe lo faceva Quindi andavi a prendere Anche i doppioni Le cose Cioè Era più facile In due Sarà più complicato Poi c'è il Monza Nell'album C'è la nazionale Cantanti Puoi trovare Ermal Meta Benji e Fede Mogol È bellissimo Io non vedo l'ora Ragazzi L'ora di Mogol C'è gente Oh shit Ma che ne hai detto Tossendo e scorreggiato Mentre lo dicevi No che sto morendo Eh ho visto No allora Curati Ragazzi qua ci sono Di tro di me credo Non so Forse non mi sta più seguendo Quindi qua Fammi sapere Aspetta Aspetta Lì in fondo Aspettate che io sono inutile adesso Datemi un secondo C'è roba all'interessante Forse Sì che c'è roba interessante Sì che c'è Ma era sotto Erano quindi loro Comunque potrebbe essere Piccolo spoiler Un set che farò di Lego Potrebbe essere grande Forse le apro in live Comunque ragazzi Quindi sono a posto Per un po' Picc'altro non saprei dove metterlo Ma potrebbe essere grande Comunque con il set La dietro Cos'ha detto Mario Madia No ho detto Magari se mi arriva Cioè se mi compro proprio il pack Quello Decente Non prenderò Non spenderò tanti soldi ragazzi Lo farò così a tempo perso ovviamente Però magari li apro in live Così prima di qualche marchedì O dopo Alla faccia di chi fa le figure Oh l'avevamo già A parte che io e te l'abbiamo già fatto Moro Con i figurini a panini Sì ma erano quelle Non quelle adesive Quelle Tipo l'haming Cos'erano quelle Quelle che avevamo preso Erano tipo nel paccone del cacchio Comunque la gente ha usato Lì la zipline Per andare là Zaino blu Se volete quello normale qua Io ce lo bianco Prendo 100 passi Adesso non c'è ancora L'ho craccato Ma sei lontanissimo Porca vacca Non ce la farò mai Non ce la farò mai Vieni verso di noi Dopo ho cercato Prova Prova a venire verso qua Dai ma Gli manca un colpo Gli ho tirato Ho coio Ho coio La stella È morto Non ho vita però Vieni via Vieni via Vado al riparo qua dentro Solo che lo tirano al suo Robby grazie per il ride Bella Grazie Robby Giooby Qual è la miglior melendina Kinder A me piace Non so A me piace Kinder pingui Non so Non è da un po' che non le mangio Arrivo Sono chiuso No Mi salto tutto ragazzi Ho mi salto tutto Tutto Sono nel caccone Sono in tre Pino sparano Vedo di aver fatto 15 danni Mi vengono addosso Non è vero Mi hanno ignorato Bravo Non l'ho riatterrato Non c'avevano niente Non c'aveva Io ti dico il pingui Comunque Sono io a terra Però Puoi tirare su un marco Si a me puoi tirare su un moro Sono veramente cagato nella braga C'era l'ultimo che ti ha cechinato Non l'avevo visto neanche io Perché pensavo fosse ancora là nel cerchio Invece è uscito Allora se scendevo e poi sparavo Li uccidevo probabilmente Invece ho sparato mentre scendevo Li ho missati la maggior parte delle volte E poi c'è qualcosa che non va Lo shotgun A distanza siderale Gli toglievo 30 Beh ci sta E non è tantissimo Eh ma sul Non è un cazzo 30 In testa Guarda che gli puoi fare anche 80 Robi ti do un bacetto Mi spiegavo gli togliessi 2 3 Per me è la miglior merendina Dipende Io dico il pingui Scusa mi va al momento Kinder pingui Non è una vera merendina È la mia preferita però Di tutte proprio Il fatto che non conosco Ce ne sono di 9 Anche non le conosco E gli azamenti Poi con le 9 Sono boomer delle merendine Io dico Io dico La kinder colazione più Per essere Era buonissima Anzi Il pane cioc Dopo è uscito Era l'evoluzione Quella migliore Sì 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 Era l'evoluzione della kinder Il big mac Ottimo a merendina Io dico Il ciocca pic Come si chiama Cos'era il ciocca pic Sembrava una mod di minecraft Da come l'hai detto La ciocca pic Comunque il pane cioc È fenomenale Ragazzi Te lo appoggio Ma Sergio Tu mi inviti Sono in live Che buonasera La fiesta Secondo te Ti blocco E ti permavano Ti denuncio Pronti gli avvocati Sono qua dietro Invece alla Roby Cos'è che ha detto Ho visto prima Anche l'epist Stava facendo una pubblicità La kinder L'ingredibile Ingredibile Ingredibile ma vero Che stolta che sei Roby Le yo-yo erano realmente buone Le yo-yo però Erano quelle proprio Erano quelle poche merendine Che se ne mangiavo una Effettivamente Ero cazzo Ma perché sono Erano anche C'era La droga Dentro Secondo me Erano un po' Mezzalcoliche Tu sei un kinder bono Era veramente una roba Di Minecraft Vedi Beh arriva una shader pack Ragazzi andiamo qua Un texture pack Ho sbagliato Marco Scendiamo qua Vabbè andiamo nel buco Poi vediamo Andiamo nel buco Dai che ci arriviamo Grazie 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 mille Grazie mille Grazie Grazie Ma invece Visto che la roba è arrivata Buttando il topic Quali sono i cereali più buoni Ti avevo promesso Non li mangio A parte Sunfire Grazie Moro purtroppo Io Ho fatto Ho fatto la fase da piccolo In cui mangiavo Ma poi ci siamo andati qui Scusami E perché non ce la facevo Arrivare lì in fondo Ma nel buco ci arriviamo E ma qua è pieno di case Perché dobbiamo andare nel buco E rischiare Cioè possiamo andare anche dopo Nel buco E rischiare la morte Però prima vorrei prendere due robe Io ho vissuto la fase Del Dei ciococosi Come tutti lì Dei ciococopops Ma poi Quando sono diventato più grande Ho iniziato a mangiare subito Le cose d'avena Le barchette erano No Sì Beh erano una forma Di barchetta Sì erano quelle Quelle concave No io dico le palline di cioccolato Allora Ah no quelli sono Non mi ricordo dove c'era la scimmiettina No li facevo anche la cocopops Però C'era la scimmiettina Però mi ricordo Non ho mai avuto voglia Di mangiare i cereali Io da piccolo Poi non l'ho mai più fame A me piace Mi davano una nausea subito Ci sta Eh però A parte che non li mangiavo Cioè non mangiavano anche il latte Quindi dove li mettere Ma ragazzi forse io mi sono scorato qualcosa Ma il risosofiato fa schifo Il risosofiato è buono per fare i dolci Ma per fare Il risosofiato va bene nelle barrette Eh esatto Però da mangiare nel latte Si sbudella tutto Fa schifo Cioè diventa la pappetta del sottopalle Bella Amoro Quella del sottopalle Bella qui C'è l'armatura Nivello 2 Potrebbe farmi comodo Ma il nuovo leader uccisione Mi può semplicemente Allappare la fame Allappare la fame Ma il muesli però non è Cioè Non lo metto insieme Cioè il muesli Ma vedi Ma perché io ho iniziato a mangiare quelli E poi non l'ho più presi i cereali golosi Perché sono No vabbè Io dico dei cereali golosi Diciamo Definiamo E le palline al cioccolato Che vuol dire un cazzo E ti dico le palline di cacca Dei criceti Quelle lì le ciocopitte E i ciocopitte E quelli ti dico Perché sono quelli che ho Niente Ragazzi Non è possibile ogni volta Io vado dall'altra parte Perché sono anticonformista Io vado di là perché sono anticoncezionale Ma io te lo sto sparando Ma ho ucciso un botto Un botto ho ucciso un sacco Sera Ma i pandistelle anche quelli sono buoni Era un tizio Fermo Che si chiamava con un nome strano L'ho ucciso E si è affusciato E l'ho sparito Non so che cazzo è Amici io voglio fare le kill Sono qua eh Uccido tutti Magari due olografici Non li avrei messo Allora io sento gente da me Mi stanno sparando Moro dove cacchio Aspetta Non ci arriverò mai Torna indietro Moro Fallo adesso che non sei ingaggiato ancora No ma non Dovremmo scappare Ragazzi ma la La safe eh Andiamo Andiamo alla safe Ma perché andiamo subito Devo lootare tu E manca un minuto Moro Poi si chiude Io vado al centro della bolla E poi mi tuffo Qua lasceremo dei loot Incredibili probabilmente Però Ragazzi vado qua io Cosa faccio? Vado qua Mi rimane sempre in testa Le musiche di Jojo Ma io mi salverò andando qui Non mi ricordo Sono tre in tutte le stagioni Probabilmente Le musiche di Jojo Però rimango in testa Ma entriamo nel fiume Sì si è entrata nel turno Ma tra l'altro A proposito di Devo stare attento appena esco Che mi ammazzano in 200 Probabilmente A proposito di Jojo Ma Invece Nei momenti di tensione Almeno in questa stagione qui C'è Di sottofondo Il Quando accendevi la Playstation 2 Ragazzi prendetevi sti scudini Il rumore della Playstation 2 c'era E Marco Mova dobbiamo arrivare Adesso appena ci siete Che stagione sei Boh Non si capisce su Netflix Perché allora la prima Quella tipo di tre episodi È considerabile prima stagione Marco è la mia copiata su Apex Ovvero R301 ed Emlock Qua c'è un MLG On moment Poi c'è quella La stagione quella di Joseph E poi c'è quella che sto guardando io Ragazzi vi lascio altri medicini qua Piccolini Mi prendo quello grosso Mi serve Mi serve Stanno sparando Stanno sparando con le bisse Ma c'è la roba viola Andiamo a vedere ragazzi Ma anche solo per lo zaino C'è Joseph Giordano Joseph the gamer No Pensavo Posso tenere il flatline o il vault Ragazzi io sto andando Sto andando qua Marco Mi ero di coglioni eh Eh lo so Ma mi sta seguendo anche Liezar Giustamente Ma perché c'è roba Possiamo trovare lo zaino Così lutiamo meglio Eh c'è roba lo zaino Io Mi piacciono le donne E vieni qua Liezar Ciappa la lasagna No aspetta no Giordano Giordano A me la prima è quella che è piaciuta di più Per adesso Che sarò unpopular Però è la verità Eh anche a me era piaciuta molto Però adesso la sto rivalutando anche questa Ragazzi Veramente neanche uno zaino Armatura viola Triple take Eh non mi interessano Tipo pin Guarda me lo prendo lo stesso il triple take eh Che cazzo vuol dire me lo prendo lo stesso Me lo prendo io Ce ne sono otto Moro Non è un problema Non so se lo prenderlo al posto del volto Vabbè ma allora affanculo Liezar Eh ci metti in quarto d'ora Eh ho capito Sì Eh no Perché tanto se l'avevo io il triple take Almeno l'ho sostituito Ragazzi là sotto Anzi no Però aspetta Moro Prendilo tu Prendo questo No prendo questo Io prendo questo Solo che lo prendo al posto del front No Sono cascato Non è vero Ah no Sono dentro lì eh ragazzi Proca buttana Vito Ah mi è partita la mano Andiamo 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 Troppo un istante Usciamoli che lì dentro c'è un sacco di gente Magari riusciamo anche a A morire Certo quello sicuro Quello manco a dirlo Un canto che ce l'ho mai visto Ma mi fa schiccio Cioè quel poco che ho visto non mi ha detto un cazzo L'avevo visto forse l'avremmo puntato È partito via È sopra È sul tetto È sul tetto Fatti morti Io lo ignorerò Attenti ragazzi Pieno di gente qua Dopo tutto questo Sempre Morto quello sopra Andiamo giù Grazie Alex Mi rubo le kill Tanto avanti Attenzione Togli Ezzar Stai a miraggi No moro Di fianco moro di fianco Lo butti giù easy Lo butti giù easy Non dev'era un cazzo Ma gli ho lasciato Cioè forse ce n'erano due forse Perché uno l'ho veramente reso Erano in set Non è andata male Dai A livello di sparamento Poi potevamo fare 200 milioni di cose diverse Mi sa miraggi Chi è che avevo preso quello reso in fin di vita O miraggio o quell'altro coso Lo scheletro che mi scordo sempre il nome Alla visaggio dupinis L'Ezzar è a livello 1 Non lo so Da me sei a livello 1 Perché intanto si bug Miraggio l'avevo messo Grazie Alex comunque per i 51 mesi Grazie anche al Barba Il Barba come James Harden Guarda io ti consiglio di cambiare Nick Alla miraggio dupinis Torniamo in una delle casse blu Dai amici siamo migliorati Cioè io sto giocando tanto Poi loro magari non stanno giocando troppo Però un po' di miglioramenti secondo me si vedono Non fare l'hater No 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 Assolutamente ragazzi Questo evento loba è completamente inutile Comunque La usano lo stesso invece Perché vanno di fianco Anziché cadere col gruppo e morire Vanno un po' di fianco E ciullano dal Dall'airdrop Comunque Però io non la userei Comunque Personalmente non la userei Ho 100 kill Precise precise Ma quella è una faccina Queste sono delle pippe ragazzi Ha una faccina col nasino Vorrei che tutti voi poteste fare l'amore Da Trieste in giù Andiamo alla porta aerei Qualcosa tra i denti Andiamo alla porta aerei Voglio essere gasante stasera Aerei? La porta aerei Si chiama una porta aerei? Si chiama porta aerei mi sembra Ho detto una stupidaggine Si però non mi sembra mai una porta aerei Ragazzi occhio che scendono C'è scritto Arcadia Ma che schifo ragazzi Provo qui doveva scendere Arcadia c'è scritto? Eh si Vabbè ma io Arcadia Un lato blu del piffero Un lato blu del piffero? Si Il piffero Marco Ma che cazzo di schifo ragazzi Tutto così imbarazzante Quello che ho raccolto Abbiamo un alternator Pippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippippipp Tra un po' andiamo via Già A me manca l'elmo e lo zaino A me mi mancano le armi Venditi sto scudino No In effetti con l'avoc in mano avrei preso la wingman Sì C'è gente Uno l'ho noccato l'altro gli ho tolto mi sa niente Lo sta tirando su ragazzi è lifeline Lo sta tirando su Sono morto È troppo di stunt Non mi pare abbiano scudi Se ce l'hanno ce l'ha solo uno dei due A destra moro attento Eh lo so Ti ho scasati un po' Ho fatto squadre tutte le cose Non riesco a riprendere più la mira dopo che sparo Ma in realtà Allora l'avoc Quello a cui ho sparato è morto È stato noccato Quindi non è andata male A cento precisità Ho avuto un'arma vera Avrei potuto fare anche qualcosa Avevo l'alternator delle palle Che a me non dispiace l'alternator Però magari da quella distanza c'è di meglio Sì ma ho dovuto check inare uno con l'alternator Vedevo i proiettili cadere giù nel buco Però vedi mi diverto almeno Cioè cadiamo nei punti blu però C'è un po' di casino Però mi diverto Si spara Spara chiodi L'alternator L'avoc comunque non è Mi sono ricordato adesso Cosa volevo dire stamattina Quando mi sono scordato di dire una cosa Eh lo so Perché ho preso qui Ho preso questo qua È un hub USB-C Io volevo prendere quello della O-Key Questo qui che c'ha Sono quelli per i portatili Tipo il Mac che fanno cagare E non c'hanno le preso USB C'ha le preso USB-C Ma lo fai pronto intanto Il lettore delle micro SD Un'altra preso USB-C per ricaricarlo E c'ha tre preso USB E c'ha l'HDMI No? E lo posso usare di conseguenza Anche come adattatore per il cellulare Cioè posso toccare anche il cellulare E l'HDMI attaccarlo all'elgato No? Quindi posso usare il cellulare Vedendolo sul PC Quindi adesso Prossima settimana Facciamo tutte le mattine Mobile game Ma mi sembra ovvio Certo Proprio queste settimane qui Sono pieni di giochi da fare Eh ragazzi io domani su Rust Voglio spaccare tutto eh No però posso Cioè effettivamente Se mi viene lo schiribizzo di Perché lo sapete che io Mobile game Sono l'uomo Sono il vero gamer Certo Quindi Gioco anche su mobile Perché sono un gamer a tutto tondo Prod mobile ma veramente da mobile? Non volendo Un sub Beh ma c'è Turbo la mattina che fa Bloons TD E io Mentre aspetto che parte la live Ve lo guardicchio volentieri Non uscino su cellulare? No Perché quello ce l'ho su PC Eh beh Allora è giusto vedere Ragazzi andiamo lontano Non c'è la FK Arena Andiamo qua FK Arena Devi stare a FK per giocarci Ma non è vero comunque Volete andare lì? Perché avete cambiato? Non avete cambiato Vabbè ormai andiamo lì ragazzi Ma non è il ring quello È bellissimo il ring Volete andare al ring? Sì andiamo al ring Andiamo andiamo al ring Vector sta per succedere Ma tanto sicuro non scende nessuno Dovete scendere proprio in mezzo eh Ragazzi Guardali che macello Andiamo andiamo fidati Ci picchiamo Sì Ma sopra o sotto? No dentro il ring devi entrare L'Ether No non ci ho preso Ci siamo? Sono sul tetto io No ci siamo Ci siamo Ci siamo Perché no? Venite venite Dai dai Prendete tutto Prendete tutto Eh non ci sono armi Sì devi rompere le cose Ovviamente Arrivano eh Ma ci possono sparare da fuori? No 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 Da fuori no E neanche noi da dentro fuori Ma sono noi? Eh ma non c'è niente Eh ma non entrano Dai entrate Come Marco ha i campetti di NBA Sì esatto Mi trovo Ogni quanto Cioè quanto posso tirare fuori le armi? No Dobbiamo uscire dal ring Eh ma se non entra nessuno Non possiamo sfidarci Vabbè usciamo Niente Che pippe ragazzi Niente adesso possiamo sparare No qua è un bel posto in realtà Ok sono un botto di gente Tutte di là Marco Dov'è? Là dove stavi andando Dove senti gli spari Voglio andare E' un bel posto in realtà Piri 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 Eliminato E' un bel posto in realtà Fantastico Un'altra battuta Posto Easy Abbiamo un bel posto in realtà Eh Marco dietro Ti arriva uno Easy Arrivano anche una Bloodborne Da dietro eh Morto Buona C'ha Radius C'ha il Radius Ragazzi Questo è il Mastiff Triple take Se volete Una carabina Eh lo scudo No ragazzi Devo resistere Non prendere il Radius Mi sono preso Uno Spitfire Ma me l'ha Me l'ha rimasto C'è l'ha Rimasto anche dentro la La cosa lì È duplicato Mi tengo il Mastiff A questo punto C'ho Flatline e Mastiff Direi che è una buona combo No? Se trovo le Forse no Aspetta Ah non c'ha aperto tutti Diciamo solo due Ha fatto i villiaci E non sono venuti dentro il ring E li abbiamo sculacciati fuori Adesso ci arriva una cecchina Che moriamo tutti E abbiamo di no Ma infatti io non dico mai easy Quando c'è una persona Che loro me l'hanno proprio tirato fuori Easy easy ragazzi Eh 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 Qua però Niente Niente Da sopra non c'è un cacchio Perché sennò Torno giù Siamo già Andiamo verso la 6 Eh andiamo verso la 6 Rientrata nel veicolo Va Ma è più divertente Più ludico Ma venitemi a prendere Dai Dove sei Morelli Sopra C'è uno Devo arrivare Devo C'è uno qua da me anche Lo sento Sotto Vi arriva da dietro ragazzi Sì c'è una squadra qua dietro ragazzi Eh Vole andare via Così si scontrano tra di loro Magari Venite verso di qua Sì Sennò ci fanno il sandwich Ma la macchina Entriamo E lasciala lì Lasciala Noi ci fanno il sandwich Noi avevamo gente dietro Nel coso rialzato È uno morto Zaino blu ce l'avevo già Sì Buono questo Andiamo oltre il ring E andiamo dall'altra parte È sempre stato il ring Cioè Io l'ho scoperto da poco Quando era iniziato dico Ma c'era uno qua Mi spare no Sopra È Mirage C'è Mirage qua in giro Mi sa Aia Ma sei andato Liezar Sei andato sopra così Eh ragazzi Ho aspettato un attimo Ah ci sono lei Arrivo Liezar Ma ce l'ho di fianco pure Marco dove cazzo sei Sono qua Ma questo sei tu Sono ammazzati tutti Ok Io devo curarmi Tanterrimo però Aia Aia Mi smaraccò Tirami su Ok Era dritto a me Sì Mamma mia Perfetti Dobbiamo tirare sugli Ezzord Eh Attenzione Attenzione Ma non è possibile Eh siamo a terra di nuovo Noo Noo Tutti sono arrivati poi Noo Hai detto Isi Sono arrivati tutti Noo Io ce l'ho detto Isi Quello lì ha detto Isi Andiamo tutti Isi l'ho detto Vent'anni fa Io ce l'ho detto Ai balorti Non a tutti i team Eh ma La gente Tutti sono arrivati È andata bene Dai Abbiamo fatto un po' di show Un po' di teta Tricchi 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 Spottano gli abiti Tricchi Tricchi Hai visto il film No non ce l'ho io Io vorrei comprarmi una skin Però non Boh Non ce n'è una Che Dico Ma Questa sì No Ce n'è una in realtà Aspettate Ve la faccio Ecco Questa è la più bella Secondo No io la potrei anche comprare 1800 Solo che non uso lui Eh quella di Revenant Quella di Loba No a me piace quella di Revenant Perché non carica No la connessione al server è stata Futtuta Eh ma ha detto così Adesso rientro Scusa Dove le vedi? In negozio Allora vai in Schiaccia nel Stagione 7 E poi lì ci sono oggetti collezioni Ci sono delle skin sotto Guarda Revenant Che bella Dove? Eh Allora Cliccando Ah lì Nelle oggetti collezioni Esatto Sotto c'è quella di Revenant A me piace un botto Solo che Revenant Cioè io non lo uso A me piace quella di Ce ne sono un po' carine Anche Loba Bella quella di Loba E quella di Bloodhound Loba ce n'ha altre Che preferisco Bloodhound è carina Sì Anche Lifeline è bellina Non mi fa impazzire Quella di Lifeline Cioè è meglio E' fatta bene Quella di Lifeline Però non so Vorrei aspettare A vedere se esce qualcosa di meglio Intanto vi rinvito Eh io Cioè Posso anche prenderla Quella di Revenant Però che cacchio C'ho ancora i soldi del torneo Io so che Cioè non lo uso Già ho trovato Quella leggendaria di Crypto E non ho Crypto ancora Quella di Lifeline Ha un trucco Che è Goodlike Otacon Scrivimi tutto Che io ormai sono un pro Tipo il coltellino Un trucco Un trucco Ah un trucco Scusami Pensavo un trucco Un trick Ma non penso che una skill Possa avere poi No però c'è il coltellino Che fa fare le skill Quella di Raid Però lo devi prendere con dei punti Che non ho capito Grazie Crazy Grazie Crazy Io pensavo un trucco del gioco Scusate Non pensavo al trucco Un trucco alla casa nuova No 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 Ecco il campione Checco il campione Che trombe Dove andiamo? Nel buco Dai Oh Eh un attimo Eh aspettai Io sono Da fare Cadevi nel kiffero Dopo eh Che bella sta musica Quando scendi Comunque La cosa più bella Che ho sbloccato Quella Ma non è vero Quella corna musa Sì entra la cosa più bella Del gioco Dove ci buttiamo? Va bene Vado in quella io allora Giusto per dividere Non è vero C'è il piano di sopra Vado sempre in quello lì Kid Phoenix Ma sì È picchiatillo Ma sì Magari Non volevo la P-20-20 Magari Ok Meno male che Cos'è che ha detto Che Silvio c'è Non credo No Ma Vado prima vittima Qua c'è Flatline C'è Ho preso io Flatline C'è il kit Fenice Paura Tra l'altro Recentemente Ho rivisto la signora Quella che tutta Con la gola Tutta strecciata Che diceva Meno male che Silvio Mi fa sempre ridere Ogni volta che Del cacchio Occhio a misere A che ridere Ogni volta che lo vedo Pussa Chi sarà mai Andiamo a vedere Grazie Flavio Benvenuto Grazie Flavio Andiamo di là Andiamo di là Pensavo di non prenderne la corda E cadere di sotto Grazie Flavio Si che si storce tutta Diventa un piccione Stai tranquilla Stai malissimo Dov'è lo zaino blè? Obiglio Quando te l'avrà Fottuto No 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 Sono arrivato come una faina Che c'ha le mani lunghe Lui Come una faina Perché devi Mi cancellare sempre Il diritto Marco Assolutamente Ma infatti Però Qua mi son pronotato Tu non hai detto niente Quindi ho la precedenza Io mi sono pronotato Prima ma Io andrei anche qui E anche Andrei The Giant Un po' E anche Andrei Andrei Silva Sembra chiuso Ma io che cazzo Di robe C'ho addosso Mamma La picchi un gulo Faccio finta che sia Un nuovo posto Triple take Morelli Fico Mastice Lo prendo La risposta era Fico Perché ho detto Fico Yes Però vorrei anche Un mitragliatore Vado Io Io con la P2020 Per davvero Ottimo Flavio Ottimo Questa cosa Aspetto che inizia a lavorare Almeno qualcuno Che riesce a trovare Il lavoro C'è Prendetevi questo C'è qualcuno Qui della zona Mia Della zona Cos'è Cerca lavoro Io non ho munizioni verdi Se me le date Ne ho poche anche io Ma verdi pesanti Dici Sì Non ce l'ho Perché Ci sono queste No quelle Me le sono Piombate nell'arma Volete lavorare Ma stiamo lavorando Anche adesso noi Comunque Ma non al suo posto No è vero È vero Io preferisco Il mirino base Del Però magari No niente Non lo prendo Lo grafico Grazie Grazie Non so di cosa Mi prendo la volta Allora Bacanculo Adesso dovrei andare A riprendere le munizioni Troppi Troppi scendini Me li butto qua Non lo armi Vorrei andare a prendere Tutte le munizioni Che mi sono caccato sotto Vogliamo uscire Dalla buca No Quante cose Blu Pieno Ce ne sono due Dai dove le ho droppate Adesso le robe Munizioni verdi Moro prenditi queste Vieni Il devotion Lo prendo No Mi servono quelle verdi Marco Mi servono quelle verdi Vieni qua Non quelle verdi Bravo Quelle energetiche Ciao linelli Usciamo Usciamo di qua Ciao linelli Ah Linelli Lui si chiama Lino linelli Si chiama Pasquale linelli Detto lanes Da parte mia La Juve già vince Un saluto A tutto La polisportiva Di Torino Andiamo nelle cose Ma che idea Del cacchio Che ho avuto Non fatevi Gabbare Per Corità Colpito Io non è che ho Tutta questa vision Vanda vision Ma c'è Gibraltar Mi hanno fatto male Ma che è Quella munizione Che hai sparato Ragazzi Se vengono qua Io godo un po' Aia Mi hanno fatto malissimo Ragazzi Aio Magari Possiamo scendere un attimo Eh dobbiamo per forza Però mi sto curando Io Quindi se potete aspettarmi Marco Eh Ma questo c'è il territorio Cente da dietro Anche arriva Fanculo No andiamo là dentro Andiamo là dentro Come ci arrivi là dentro Moro Voglio proprio vedere Eh per forza Se no c'è arrivando al Chiulo Dai adesso che ne abbiamo Bombardati Mi hanno tirato una granita Colpito 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 Un'altra granita E uno Correte 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 Venite dentro Ehi Morto Uno Mi ha poca vita Si C'è uno qua Dove Mi hanno sparato da Mi chiama porca buttana Ma dai Ha preso te Moro i miei colpi E' un altro Se tu passi di lì Io devo No Eh sono a terra Stanno sparando ovunque Marco è qui Eh dappertutto Dappertutto No no niente Eh ma non stavo Non stavo capendo niente Non stavo capendo Veramente mi sono Ce n'era uno da destra Quando sono uscito Un altro da dietro Girandomi dall'altro lato E uno in mezzo a voi Eh ma gli altri erano lontani Erano quelli che ti ho detto Che ci facciavano il sandwich Eh ma ho capito Ma quanta gente Scusami Tutti là Due erano per terra Comunque Quindi un team Si presumeva Che più o meno Bevo Bevo Ho fatto 64 e due skill Quello che ho trovato Tanti meglio Ho fatto 120 64 e due skill Ma che cazzo vuol dire 64 e due skill Cosa vuol dire 64 e due kill Ho detto 64 e due skill Ah tu Non me ne erano neanche accolto Che paura Mi sono fatto un pediluvio Nella cacca Grazie fantasticolo Grazie fantasticolo Ma perché Come si marse Cambiato il nome Da scemo Soprattutto Sarà la primavera Rizzo Dimmi Corne Tutto a posto L'importante È non morire Che voglio essere qui Per guardare le spalle Tutti e due Che hanno detto Voglio guardare le spalle E tu guardi dritto Che devi guardare E no Io non guardo le spalle Perché Beh Moro Mi guardo le spalle Non lo so Grazie 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 Ken Avete visto il termobest Zitto Moro L'avete visto il termobest Perché io l'ho visto È stato molto bello Secondo me E poi Opinione personale C'è Moro che va in bici Addirittura È vero Allora Bravo Che sono Molto 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 Andiamo a quello blu qua Questa zona Ma ce lo dobbiamo aspettare Aspettiamo Adesso Bravi Bravi Guardatelo Ho visto poco fa Stavo morendo Ma sono contento Cioè Non che muori Ci mancherebbe Ti voglio bene Bello Mi fate una recensione Voi che l'avete visto Da 1 a 10 Ma tu non l'hai visto Moro? L'ho visto L'ho visto Però volevo sentire Un po' come il No Certo Un po' servizio clienti Che ti richiama E ti chiede Da 1 a 10 Dobbiamo buttarci Wingman e Spitfire Che combinazione del cacchio Io alternator e Spitfire E wingman volevo dire Ah la carabina dei miei pelvi Se l'ho detto Chiedo sorry Per la confusione Se l'ho detto Chiedo rimborso Sì sì Siamo dentro la Merkel No Che schifo Ma c'è un'armatura Di pus No ce l'ho già Zainello Comunque il Volt Arma best Del mondo Meglio della carabina Molto bella il Volt Poi vabbè Il fatto del Volt È che trovi meno colpi Purtroppo Quindi la carabina È sempre meglio In quel senso Però No ragazzi Faccio un'altra carabina Devo cambiare Non posso tenermi la wingman Ragazzi Io so Marco li andrei a fregare La carabina Così così Perché l'ho prenotata Ma io non sono d'accordo Così Però è lento Quindi la prendo io Un'altra carabina Io non la voglio Amoro Cioè non è vero La vorrei Però C'ho anche l'alternator Fatto bene Ah Chissà Chissà Ma quante munizioni C'ho arancioni Perché l'ho fottuta Tutte io Quelle delle carabine Vari Trovate in giro Non c'ho Ai miei servizi Dopo il caso Ve le do A me servono Quelle verdi Quelle del Volt Aspettate un attimo Quelle energetiche Mi servono Ma lì sopra c'è qualcosa Magari c'è uno zaino Fammi vedere Qua c'è un altro kit fenice Lo venite a prendere voi Avevo fotto No non andate voi Zaino blu Vedi lo sapevo Che trovavo la mia felicità Qua dentro C'è anche il Mastiff Se lo volete Include una palla Che sto facendo Oh Qua c'erano munizioni Mi pare Non le avevo messe qua Da qualche parte Forse qua sotto Tipo Timido Ok Yezar ha miagolato Dice Korn Cosa? Forse è embriaco Yezar Non so C'è lo star No credo Korn Si è prestato a scrivere Un sacco di cose strane Cosa ho detto? Korn ha miagolato Va bene Korn ha detto Che tu hai miagolato Uh sesso Hai detto sesso? Andiamo da qua Ma due Mastiff Che schifio Non è niente Ho già troppi colpi Secondo me Devo prendere quelli Vado sopra Vedere poi Dove sarà la prossima safe Non adesso Frank Questo mi piace Moro vuoi questi? Che non mi ricordo cosa volevi Di quelli gialli Ma non sono gialli Comunque te l'ho pingati Eh? Te l'ho pingati Eh non c'ho voglia Anche qua ci sono Sono un po' pigro Secondo me Qua c'è un triple tac No queste sono mie Questo è il triple tac No non mi piace con questo mirino Mi dispiace Bisogna saper fare delle scelte In questo gioco Cacciate le palle Moro anche qua Guarda è pieno Stai rinunciando Al patrimonio A proposito di force feedback Diezar stiamo vicini vicini Andiamo Anche qua Presto novità Per il canale ragazzi Sì C'è il Robertino No blu Che schifo Che dice Diezar? No non era il personaggio di Diezar Chi l'ha detto? Ho detto io Io aspetterei di dire le robe Visto che ho dato Ma questa volta è 100% No perché anche Ti ricordo che l'altra cosa Io ho dato l'indirizzo A chi sei te Da due mesi fa E non è ancora rimasto nulla Quindi Eviterei di dire Ma noi andiamo qui E tu vai lì Noi veniamo lì E tu vai qui No forse non era vero Ma Andiamo a vedere cose Viola piuttosto A Rostan Andiamo No praticamente ho comprato I telecomandi della Wii Comunque Non era niente di Io giro di qua ragazzi Se permettete Va bene Sì le clerche Vabbè certo C'era la collab Che arriverà ragazzi A breve È diventato come il video alcolico Sì però quello lì Con Marco No io ho preso i cosi Della Wii Li uso come volante Quelli li voglio aprire Magari trovo un po' di Di mercanzia Ma sono arrivati? Siamo già in sei Ah sì sono là sopra No c'è gente Diezar non mi dire queste cagate Diezar io non ho niente Per la distanza Moro prendi gli scudi Ah no sono Pinus Diezar sei lontanissimo Diezar non devi Veramente Eh però abbiamo detto Andiamo alle cose viola Poi avete intubato Lì Ho capito Ma se sei da solo Non andare a ingaggiare Io ho tolto No ma mica sotto loro Ci hanno visto da chi sarà qua Moro vieni 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 ma tu Avete ancora macchina lì sotto Eh infatti Non vengo Marco Che vieni Che sei forbiciato anche tu Vieni qua dietro Che si è arrivato Sei andato veramente in campo a pera E qua dove sono io Ce ne ho uno Marco Marco Via 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 Sono armi da lontano Marco Io non ti seguo eh Ma non sono Sono anche voi Sono È che mi stanno sparando ormai Che devo fare Ok l'ho craccato uno Stai dietro una roccia L'ho craccato uno eh Moro Ah guarda beh Non è vero Lo pusho C'è uno dietro mi sa Ho visto male Devo finire di ricaricare Io ho tolto un po' di armatura Eh niente Figurati Sono in due eh Qui Eh no Peccato È veramente caccare questo Gamefight Io ne ho craccati penso almeno tre Però purtroppo Non ho inciso nessuno Comunque Non è caduta Sono e 59 Siamo giunti al termine Della nostra trasmissione Serale A breve Nuovi Video Noi ci vediamo Domani mattina Con Rust E certo Aspetta però Noi ci vediamo domani mattina Con Rust E ovviamente Domani sera Con TTT Quindi E poi recuperatevi il video Se non l'avete visto Chiaramente Perché Mi incazzo Adesso andiamo tutti da gatto E gli dite Gatto Fategli un Un termosifone Sexy Fategli un termosifone Uno solo Gli fate Un termosifone sexy Va bene Guarda Un termosifone sexy Dov'è Il mio prefer Questo qui Non ce l'ha Lo sblocchi Un termosifone sexy Così Va bene Bravi E ciao Ciao belli A domani mattina